Ah, che palle, non ho voglia di far video. Boh, vediamo un po' cosa fanno su MTV stamattina. Ma, ma, ma che cazzo era quella roba? Oddio! No, aspetta, aspetta, cambiamo. Oh, che bello. Qua vedo, eh, documentari. Sta entrando, forse? Sta entrando? Eccolo qua, eccolo qua! Oddio! Oh, oh! E' un fucile d'assalto, questo. Oh, oddio, no! Non dite più che ho visto quello che ho visto! Oh, che schifo! Oddio mio, no! Tutto, ma non quello, madonna! Ma tutto è a me stamattina! Che cos'è? Che cos'è? Eh, bah, comunque. Allora, eh, cerchiamo qualcosa di un youtuber italiano molto famoso, piuttosto. Dai, Lego, salvami tu! Sono Necris Elrar. Un giorno un saggio mi disse che solamente un uomo avrebbe potuto cambiare le sorti di questo mondo. Ammazza, il Berlus sarà contento. A proposito, vediamo un po' com'è la situazione politica. Chissà cos'hanno da dire i nostri candidati premier. Berlusconi dice che lei guarda la realtà dal buco del curo. Può darsi. Allora, Bersani, lei contro la povertà che ricetta ha? Guarda, dico sinceramente, non lo so. Buonasera, benvenuto Silvio Berlusconi. Ho una notizia da darle, è lungo 51 centimetri. Allora, onorevole Berlusconi, lei conferma che il suo avversario non è Monti, ma Bersani? Sono diventato nonno per la settima volta. Dato che la situazione in Italia è la seguente, non mi resta altro da fare che vedere all'estero. Dai, cambiamo canale, va? No, non mi resta. Ora basta! UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU Sì